Twilight Sparkle è essenziale per questa missione! Applejack! Pony al salvataggio! Mutanti a Canterlot! Non per molto ancora! Ehi, quel mutante ha un elemento! La caccia è aperta! Sì, un altro passo ancora! E adesso? Non c'è tempo da perdere! Scegli un pony! Fai il fretto! Le mele di Applejack possono far cadere le cose troppo alte da raggiungere! Allarme mutanti! Ce l'hai fatta! Lo stai raggiungendo! Oh no! Ce n'è più di uno che è in grado di aiutarti! Twilight Sparkle è in grado di spostare le cose con la magia! Usa il dito per aiutarla a mettere l'oggetto al posto giusto! Sembra uno dei libri della principessa Luna! Forse sì! Sì, un altro passo ancora! E adesso? È il momento di scegliere un pony! Il calcio di Applejack è molto potente! Più veloce tocchi, più rapidamente scalcia! Lo stai raggiungendo! Oh no! Ce n'è più di uno che è in grado di aiutarti! Applejack! Oh, Twilight! Fai attenzione! Mutante! Sì! Sì! Ci siamo quasi! Dove pensavi di andare? Fantastico! Riportiamolo al suo posto a Ponyville! È la prima metà dell'elemento della magia! Ottimo lavoro! Wow! I mutanti sono dappertutto!